Mi sono deciso ragazzi e ho investito in Kronos Cro Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Crypto.com Ma prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale E di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere Vi invito soprattutto a iscrivervi anche al gruppo Telegram ufficiale di Topcoin Italia Perché sto portando metodi di guadagno completamente amatoriali mai visti prima Mi raccomando c'è il link sotto in descrizione e entrate in molti Detto questo, ebbene sì ragazzi, il periodo quello che è Però io mi sono deciso e ho investito in Kronos Cro Perché? Perché secondo me parere personale Questo video lo sto facendo, diciamo perché mi va di farlo E non è sicuramente un investimento, un invito a investire Perché voi dovete fare le vostre analisi ragazzi Però io voglio, diciamo, condividere con voi i miei investimenti E voglio parlare di Crypto.com Perché, ragazzi, se no è brutto andare a non dire la propria Perché diciamo quello che sentiamo tutti Diciamo la normalità, quello che succede, quello che è Però non mi va e infatti ho deciso di creare questo canale YouTube Per dire la propria In questo caso, ragazzi, ho investito in Kronos Cro Ovviamente sono andato a prendere un bel pacco, ragazzi Veramente un bel pacchetto Per quanto riguarda questa fantastica cripto Ma anche fantastica azienda, ragazzi Tutti noi sappiamo che cos'è Crypto.com Diciamo che moltissime persone mi hanno criticato Perché in tempi non sospetti l'ho portata E poi è scesa di mercato Però, ragazzi, c'è da dire che è calato tutto il mercato E quindi non è una questione che è calata solamente Cro È calato tutto e quindi, secondo me, attualmente è il miglior momento per andare a investire su Kronos Vediamo qui, nel frattempo, nel nostro grafico Che viene da 3, 4, 5, 6, 7, 8 settimane di negativo 8 settimane di negativo Che abbiamo mai visto prima nella storia di Cro E, secondo me, ragazzi, può solamente aumentare Perché, diciamo, è andato in default E per quanto riguarda durante ottobre del 2021 Era scambiabile a 20 centesimi Quindi ora siamo ancora inferiori al prezzo default Dove c'è stato il fantastico bump Dove è esploso Crypto.com Ma ora, secondo me, ovviamente, andando avanti col tempo Cro aumenterà di prezzo E infatti sono andato ad acquistare soprattutto questa carta Vi faccio vedere Sono sul sito di Crypto.com Qui vi faccio vedere tutte le carte che ci sono Ragazzi, ovviamente, diciamo, i benefici sono calati Ma Crypto.com non è da criticare Cioè, non c'è proprio nulla da criticare Ho fatto anche un video dove vado e spiego il mio wallet La mia strategia E infatti, ragazzi, per quanto riguarda quella percentuale È la Ruby Steel Praticamente io sono andato ad acquistare 350 euro di questa carta Però non ho pagato la carta Perché mi hanno dato, con questi 350 euro Sono andato praticamente a prendere 1.944.38 cro Monete di cro Ragazzi, è un affare È un affare perché Diverse settimane fa Soprattutto mesi fa Con 350 euro andavi a prendere Praticamente La metà Proprio la metà Quasi la metà Ho appena visto che non ti sei iscritto al canale Che cosa aspetti? Attiva la campanella Iscriviti al canale E soprattutto Guarda i nostri contenuti Perché ne vedrai veramente delle belle Mi raccomando Di adesso E quindi mi sono deciso E ho preso, ovviamente, la Ruby Steel Ho anche il 2% Mensi in mezzo Se non sbaglio Direi una cavolata Di cro Che facciamo ora niente È il cashback Ho anche Spotify gratuito Mentre più in là Quando vorrò fare anche l'upgrade Con la Royal Indigo 3.500 euro Ho Spotify 100% gratuito Netflix 100% gratuito E ho anche L'accesso alla lounge Dell'aeroporto Poi, ovviamente, ragazzi Qui, diciamo Ci sono anche Per quanto riguarda I vari limiti Ovviamente bisogna tenere In staking Cro E in questo caso, ragazzi Con questa percentuale Ovviamente Sono in staking Quindi andate a generare Ulteriori cro Sono calati Ok, va bene Ma, ragazzi Il 2% Per quanto riguarda Il mensilmente Di Grow Cashback È ottimo Non è da sottovalutare Parere mio personale Migliore carta Attualmente al mondo Per noi italiani Ovviamente Quello che ci offre Il mercato Però, infatti Ho deciso di fare Tutto Questo video Perché Se siete anche voi Interessati A fare Questo Mio Investimento Non è un invito A investire, ragazzi Vi vedo Perché Non vi consiglio Io di andare a investire Io sto facendo Solamente Un video Poi voi siete liberi Di fare Quello che volete C'è il link Sotto in descrizione Dove Ovviamente Potete andare A registrarvi E richiedere La Ruby Steel In questo caso Ragazzi Andiamo a prendere 1900 CRO E anche di più Perché Ragazzi Poi questo prezzo Amenterà Basta pensare Che Fino a tre settimane Fa Il prezzo Di Cronos Era Praticamente Il per 4 Quindi basta pensare Con 350 euro In questo caso Basta fare Il per 4 Per 5 Capite bene Che poi queste monete Di CRO Esploderanno E quindi Non sono Soldi persi Poi Per chi vuole Anche andare Direttamente Diciamo Accelerare Proprio Il boost Per quanto riguarda Crypto.com Cioè Royal Indigo 3500 E quella Migliore Io farò L'upgrade Molto probabilmente Ragazzi Ma perché Poi possiamo andare Anche a acquistare Praticamente Spotify E Netflix Che cosa Io utilizzo Veramente tantissimo Netflix E prendo Il 100% Quindi Netflix È gratuito E quindi Questo è Un'ottima cosa Ragazzi Poi C'è anche La Rose Gold Con 35.000 Euro In CRO E Obsidian Di 350.000 Euro Detto questo Ragazzi Siete liberi Di fare Ciò Che volete Ma secondo me È il miglior momento Per andare A investire In Crypto.com Ripeto C'è il link Sotto in descrizione Se volete andare A richiedere La carta E magari Depositare Questi soldi Che poi Tra 180 giorni Possono essere Di nuovo Prelevabili In una maniera Completamente Easy Detto questo Ragazzi Per questo video È tutto Se questo video Vi è piaciuto Vi invito A iscrivervi Al canale Di attivare La campanella Delle notifiche Per non perdervi Ulteriori contenuti Del genere Per oggi È tutto Noi ci vediamo Domani Con un prossimo Video Ciao E a presto